Inizia C'è quello che posso prendere il latte. Stava volando giù il terrore. Quando mi accompagna di scuola, mi stava vedendo. Fanno una variazione. Fanno quello che fanno le scuole. Quando scende il giorno è tutto. Sono lungo i giorni durati, ma siccome devono fare le preparazioni. Non fa male. Allora, faccio la con la lente e che fanno in agosto. È già la giro. Secondo me la senta di qua è ancora meglio. E non so, ci sono tutti i giorni. Mi sa che sta scendendo in il piano? Non per me. E anche qui le lo sanno. Ma la mia impressione. Si, è sicuro. E la città più di più. C'è la lega scuola, così si è vero. Grazie. 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 Grazie.